Dopo la recente inaugurazione della rotatoria in uscita Bussi Popoli dall'autostrada sulla Statale 5, sussistono ancora problemi di sicurezza e di pericolo per l'immissione del traffico nell'anello della rotatoria di smistamento. Accade infatti che in particolare dalla rampa di uscita dal casello si venga catapultati all'interno della rotonda sulla Tiburtina, con scarsa visibilità dal lato di arrivo delle auto che girano nella rotonda stessa e anche a causa delle tabelle di segnalazione che ingombrano la visuale degli automobilisti che si mettono sulla strada. Noi da almeno due anni abbiamo segnalato la pericolosità dell'incrocio qui, dopo le segnalazioni nostre e anche di altre eccetera è stato fatto questo progetto. Però ci sono ancora altri problemi di sicurezza, quindi vorremmo capire se hanno ben studiato questi problemi di sicurezza, faccio fiducia e lo avranno fatto, però le segnalazioni che arrivano sono soprattutto su quel pezzo lì, sulla discesa e l'uscita che ci sembra alquanto pericolosa, segnalata dagli utenti.